ragazzi, ragazzi, capisci cosa ha molto la tipo? ragazzi, ragazzi ciao ragazzi, non mi stava amoregando la tipo del cadozzone? no, ma non è un tipo quello allora, tu mi siamo clamorosamente arrivati alla lezione numero quarta oggi ti imparo, ragazzi, se non me lo impari bene oggi ragazzi, ti prendo e ti scala avendo tutta la borsa che... oh, ma la stai finendo di suonare? ragazzi, te ne sta con la testa, non è la tua alla strada allora, mi devo scendere anche ai ragazzi mica, Tommy, sono stupefaciuto, non ci posso, crackers sei super pronto per la consegna dello scetro del gaggio ferma, grazie sono veramente... eh, ma mettitelo però sì, subito la mi raccomandomi, tu mi e lo scetro vendonsato in qualunque cosa amante tu fai perché il regaggio ti osserva sempre eh, Tommy! hm grazie